Un buon risveglio ai nostri telespettatori con l'informazione sulla nuova tv. Ben ritrovati a prima notizia, primo appuntamento con la cronaca su questo canale, tante le notizie di oggi, soprattutto per quanto attiene la cronaca nazionale c'è grande attenzione al nuovo DL Draghi e alla stretta per Pasqua, ma ci sono novità anche per quanto attiene l'emergenza epidemiologica e la campagna vaccinale in Basilicata. Lo andremo a leggere sui quotidiani locali e anche su quelli nazionali. Prima però ci sono le previsioni del tempo affidate ai nostri amici di Meteo 7. Ancora una volta oggi, 30 marzo 2021, sulla nostra regione ritroveremo un ampio solleggiamento con qualche locale addensamento nuvoloso a devoluzione diurna regalato alle aree interne a ridosso dei principali gruppi montuosi. Infatti proprio oggi è prevista una lieve flessione termica per effetto di infiltrazione di aria est dai Balcani associata ad una temporanea rotazione dei venti da Maestrale e Tramontana. Il marionio sarà quasi calmo poco mosso, il martirreno poco mosso. Per maggiori dettagli visitate la nostra app e il nostro sito meteosette.it. Previsioni meteo a cura di Antonio Cirigliano, il quale aura a tutti voi una buona giornata. Bene, grazie ai nostri amici di Meteo 7 per questo contributo puntuale. Andiamo a leggere la prima pagina del quotidiano La Nuova del Sud. Chi rifiuta il vaccino può cambiare lavoro. Questa è l'apertura. Andiamo a leggere. Paternò dell'Ordine dei Medici della provincia di Potenza. Fa bene il governo a introdurre l'obbligo per i sanitari? Dobbiamo dare sicurezza ai cittadini. E ancora quattro decessi tra gli over 80, ma passi in avanti con la terapia anticorpi monoclonali ai pazienti a rischio, ma con sintomi lievi. E poi ci sono altri titoli a centropagina. Si continua con la campagna vaccinale. Il comparto della giustizia è coinvolto in questo caso. La penna prima chi rischia di più. Quindi una nuova sollecitazione da parte degli avvocati di Basilicata affinché si possa proseguire anche per quanto riguarda la loro professione. La campagna vaccinale. Poi ancora petrolio, dopo il record dello scorso anno, il 2021 sarà pieno di incognite. E poi c'è una notizia relativa alla cronaca cittadina. Quattro mesi fa il cedimento in Corso Garibaldi, una ferita aperta nel cuore di Potenza. E poi nella spalla il contributo affidato all'analisi di Nino Grasso, che si concentra questa volta sull'Arlab, l'Agenzia regionale per il lavoro e l'apprendimento di Basilicata. Il paradosso dell'Arlab senza personale. Andremo a leggere poi nella pagina che cosa ci vorrà dire oggi Nino Grasso. E poi ancora una notizia di Sport che riguarda gli allenatori di calcio. Mister Bardi vince il ricorso e libera gli allenatori lucani. Nella foto a sinistra il tecnico potentino Peppe Bardi, tecnico che siede sulle panchine del calcio regionale. Poi andremo a leggere in pagina qual è questo ricorso che è stato presentato dall'allenatore Bardi e quali risvolti ci saranno con la vittoria di questo ricorso. Andiamo avanti. Andiamo a leggere. Pagina 3 della nuova. Avanti tutta con i vaccini. Virus fatale ad altri 4 over 80. Erano ricoverati al San Carlo. Iniziata la somministrazione degli anticorpi monoclonali. Ancora la nuova terapia è indirizzata ai pazienti con sintomi lievi o moderati che presentano fattori di rischio. Quali obesità, dialisi o anche trapianto. E poi in fondo alla pagina ancora si estende la rete dei punti vaccinali. Anche Federani partecipa all'operazione di vaccinazione. Figliuolo, il commissario straordinario per l'emergenza Covid, ha raccolto la disponibilità delle istituzioni sanitarie private. Flo Villa, dopo il contributo fornito alla campagna del tracciamento, offriamo il nostro aiuto anche in questa fase. Flo Villa, presidente nazionale di Feder Anisap, che unisce tutti i laboratori privati. E ancora andiamo avanti, dedicato sempre all'emergenza Covid, c'è l'intervista realizzata da Fabrizio Di Vito al presidente dell'ordine dei medici di Potenza Paternò. I sanitari devono vaccinarsi, chi non lo fa può cambiare lavoro, dice Paternò. I nuvax violano il codice deontologico. E ancora andiamo a leggere nel sommario. Fa bene il governo a introdurre l'obbligo di vaccinazione, dobbiamo dare sicurezza ai cittadini. Bene, queste le prime tre pagine dedicate all'emergenza Covid sulla Nuova del Sud, oltre naturalmente alla prima pagina dove sono comprese tutte le altre notizie. Noi approfondiamo la questione degli anticorpi monoclonali, è partita in Basilicata la somministrazione per il trattamento dei pazienti Covid. Saranno i medici di base a segnalare i pazienti idoni alla terapia, mentre gli specialisti delle unità operative di malattie infettive del San Caro di Potenza e del Madonna delle Grazie di Matera verificheranno le condizioni per l'eleggibilità dei vari soggetti. Sentiamo Rocco Romanelli. Anche in Basilicata è cominciata la somministrazione di anticorpi monoclonali per la terapia di pazienti con sintomi lievi o moderati di Covid-19 che presentino particolari fattori di rischio come obesità, diabete con complicanze, dialisi o trapianto. Ad annunciarlo il presidente della regione Vito Bardi, un anticorpo è una proteina prodotta naturalmente dal sistema immunitario in risposta ad un'infezione. Un anticorpo monoclonale invece è una molecola sviluppata in un laboratorio progettata per imitare o migliorare la risposta naturale del sistema immunitario contro un invasore come un cancro o un'infezione o un virus. Gli anticorpi monoclonali hanno un vantaggio rispetto ad altri tipi di trattamento per l'infezione perché sono creati per colpire specificamente una parte essenziale del processo infettivo. Un anticorpo monoclonale viene creato esponendo un globulo bianco a un'in particolare proteina virale che viene poi clonata per produrre in massa anticorpi per colpire quel virus. SARS-CoV-2 ha una proteina Spike sulla sua superficie che aiuta il virus ad attaccarsi e ad entrare nelle cellule umane. Ad oggi sono stati sviluppati diversi anticorpi monoclonali per legarsi alla proteina Spike di SARS-CoV-2 e impedire al virus di invadere le cellule umane. Continuiamo la nostra rassegna stampa, andiamo a leggere ancora la nuova del Sud. C'è una pagina intera dedicata al Covid e al sistema giustizia in regione. Processo penale, da remoto un guazzabuglio e sui vaccini rispettare chi viene prima di noi. e chi lo dice? Lo dice Sergio Lapenna, presidente della Camera Penale di Basilicata, che spiega l'assenzione dalle udienze ed elenca gli affanni della giustizia lucana dai troppi magistrati di potenza alla separazione delle carriere ai chiacchiericci. ANM è pronta a fermarsi senza vaccini, manca l'elemento del reato, violenza e minaccia per l'estorsione. Ed ora ci occupiamo di un'altra notizia che ci verrà approfondita dalla redazione della nuova TG. Alvia, l'indagine conoscitiva sulle quote di genere nei comuni lucani, costituirà la base per una proposta di legge che preveda un sistema sanzionatorio per le pubbliche amministrazioni che non garantiscono la presenza femminile nelle istituzioni politiche. Alessandro Panuccio. Alvia, il censimento sulle quote di genere nei comuni lucani è l'iniziativa promossa dalla consigliera di parità Ivana Pipponzi che ha inviato a tutti i comuni lucani una nota con cui si chiede di compilare un questionario indicando il sesso del sindaco, quello del presidente del Consiglio Comunale e il numero delle donne nei consigli comunali e nelle giunte. L'iniziativa è legata al sempre attuale divario di genere ancora esistente nei consessi esecutivi politici. Nella graduatoria diffusa nel 2020 dal Global Gender Gap Index, l'Italia si colloca al 76esimo posto su 153 paesi. Si evidenzia che le donne in Italia rappresentano oltre la metà della popolazione e ciò nonostante occupano solo un terzo delle cariche politiche nazionali e meno di un quinto di quelle locali. Un dato scoraggiante che in Basilicata è ancora più sotto gli occhi di tutti. In Consiglio regionale siede solo una donna, la leghista Dina Sileo, come per l'aggiunta con l'assessore Donatella Merra in virtù della quota di genere prevista dallo statuto regionale. L'indagine, fa sapere la consigliera, costituirà il basamento per una proposta di legge che preveda un sistema sanzionatorio per le pubbliche amministrazioni che non garantiscano la presenza femminile nelle istituzioni politiche. Ancora sulla Nuova del Sud, vediamo cosa ci racconta Nino Grasso nella sua pagina speciale, il punto di vista. Il paradosso dell'Agenzia del Lavoro senza personale e con i centri per l'impiego che sono da chiudere. Leggiamo. Dopo il lungo letargo dell'autunno-inverno, per nulla scalfito da alcune interrogazioni consigliari di ottobre 2020 e dai richiami fatti a mezzo stampa anche da questo giornale nei mesi passati, la giunta a Bardi, per bocca dell'assessore alle attività produttive, Franco Cupparo, ha riscoperto all'inizio della prima vera, appena cominciata, l'esistenza dell'Agenzia regionale Lavoro e Apprendimento della Basilicata e lo ha fatto con la solita enfasi propagandistica che abbiamo imparato a conoscere, alimentando attese difficilmente realizzabili per la semplice ragione che la Lab Braccio Operativo delle Politiche Attive del Lavoro è stata letteralmente snobbata negli ultimi due anni per ragioni di bassa cucina elettorale al punto da far rimpiangere la peggiore partitocrazia dei decenni passati. Bene, questo è quanto ci dice Nino Grasso che va naturalmente approfondito nella pagina da lui redatta sulla Nuova del Sud. Andiamo alla cronaca cittadina, ci spostiamo nella città di Matera. Si parla di G20. Matera chiede in questo caso aiuto alla regione. Serve un sostegno economico. Questo dunque è l'appello, credo, da parte dell'amministrazione comunale di Matera. E poi c'è una notizia di cronaca aggredito da tre bulli per una bici, disavventura per un ventenne in via dei Lucani. Gli autori sono finiti, in questo caso, ai domiciliari. A centropagina un servizio in più per i turisti, reperibilità dei veterinari nei prefessivi e nei festivi, l'iniziativa dell'ordine a tutela degli animali di proprietà. Andiamo a leggere. La Presidente Montemuro si colma così un piccolo vuoto. L'attività sarà un punto d'avvio per dare risposta alle esigenze dei cittadini. Ancora canonerai differito il termine per il rinnovo al 31 maggio. Questa dunque è la pagina dedicata alla cronaca dalla città di Matera. Noi invece ora ci occupiamo della cronaca a Potenza. Perché ci sono ancora disagi per pedoni automobilisti che transitano lungo Corso Garibaldi. Trascorsi quattro mesi dal crollo del manto stradale di una pensilina è ancora tutto un cantiere. Abbiamo raccolto la denuncia di chi lavora quotidianamente in questa zona. Isabella D'Andrea. Sono passati quattro mesi quasi dal cedimento del manto stradale in un punto lungo Corso Garibaldi a Potenza. Ma è ancora tutto un cantiere. Erano gli inizi di dicembre quando crollò il marciapiede inghiottendo la pensilina del bus. Solo per caso e fortuna nessuno si trovava a passare a piedi in quel momento. Ad oggi la situazione è praticamente inalterata. Salvo che la pensilina è stata rimossa e per evitare che pedoni e macchine possano piombare all'interno della voragine quest'ultima è stata transennata con delle assi di legno. Per questo è stato necessario regolare i due sensi di marcia alternandoli attraverso un semaforo. Conseguenza circolazione rallentata e ingorghi aumentati ma anche disagi per chi vive la zona e per gli esercenti delle attività commerciali. La situazione ormai è proprio insopportabile perché a prescindere dal traffico notevole che si è creato a prescindere c'è un male odore di fognatura la strada sta diventando pericolosa quando si ferma, teniamo presente, quando si ferma un autobus ci sono delle macchine che tendono sempre a superarli perché non fanno caso che c'è un semaforo e già varie volte si sono evitati incidenti che potevano costare ben caro. La situazione è diventata complicata cattivi odori e anche il rischio di incidenti aumentati per questo i cittadini chiedono l'intervento dell'amministrazione non solo per cambiare le batterie al semaforo. Vengono solo periodicamente a cambiare le batterie ai semafori quindi significa che questa ribalcatura ogni giorno ha un costo per l'amministrazione comunale a prescindere che il semaforo è stato urtato ben due volte per un semaforo nuovo, se potete vedere pure il semaforo è distrutto ormai che l'hanno preso già due o tre volte. Chiediamo nuovamente che per la sicurezza dei cittadini e per il rispetto di noi che paghiamo le tasse e che lavoriamo ripristano in questa situazione. Andiamo nella pagina sportiva della Nuova del Sud Mister Bardi vince la sua battaglia allenatori inattivi in questa fase di emergenza sanitaria ma non più vincolati ai club fino al 30 giugno lo ha fatto per una questione di principio di tutela della categoria dunque questa è la notizia riportata la notizia più importante che aveva visto gli allenatori delle squadre di calcio legati alle proprie società nonostante il fermo dei campionati in questo caso grazie a Mister Bardi gli allenatori inattivi non restano più legati ai club a differenza dei giocatori che erano stati lì erano stati lasciati liberi di poter gestire la propria professione come volevano. Bene, ora andiamo a leggere vi ricordo, anzi noi ve lo leggiamo tutte le mattine siamo qui, vi diamo un'anticipazione ma voi potete farlo in forma digitale abbonandovi a soli 29 euro quindi la Nuova del Sud torna con la versione digitale a questo prezzo, un prezzo straordinario e siamo al penultimo giorno abbiamo davvero poco tempo per aderire a questa promozione davvero allettante ed ora c'è un minuto di pubblicità con un'altra promozione siamo Ezio e Rocco Calciano e il nostro panificio pasticceria ha ben 40 anni di attività ogni nostro prodotto è realizzato secondo una tradizione totalmente artigianale priva di semi lavorati e conservanti il punto di forza dei nostri prodotti è il lievito madre rinfrescato 4 volte al giorno ogni 4 ore garantisce morbidezza, fragranza, profumo e conservabilità del prodotto finale la nostra produzione comprende panettoni, colombe, pambasotti e biscotti Calciano SRL e viale Regina Margherita 40, tricarico a volte basta un gesto per dare inizio ad una storia a colori fatta di emozioni scelte, fiducia una storia che va costruita passo dopo passo insieme a chi da oltre 40 anni costruisce il futuro e non importa di quanti capitoli sarà perché basta essere scritta con passione curando ogni dettaglio per dare vita ad un finale che in realtà sarà solo un nuovo inizio con Pascale Arredamenti la tua comodità è in buone mani continuiamo la nostra rassegna stampa andando a leggere gli altri quotidiani locali c'è il quotidiano del sud che apre con la campagna vaccinale con gli anticorpi monoclonali altri 35 contagi e 3 decessi summa il segretario della CGL preme su Bardi si cambi, rotta o si torni al voto Tortorelli invece il segretario della UIL di Basilicata le proposte per ripartire subito dunque i sindacati coinvolti ancora una volta nella campagna vaccinale poi nella fotonotizia una notizia dedicata ai trasporti lucani debito da 45 milioni la regione promette una svolta su linee e anche su fondi ieri ricordiamo la presentazione dell'accordo dell'intesa che c'è stata tra regione, le province e ecotrab per un'ulteriore proroga al TPL prima della gara definitiva e poi ancora una la notizia che abbiamo letto anche sulla nuova del sud dedicata alla cronaca nella città di Matera calci e pugni per portarli via in strada la bici elettrica arrestati tre giovani dopo un agguato in via Lucana e poi invece una notizia che ci riporta nella città di Potenza insulti social all'infermiere primo vaccinato accade anche questo poliziotto eroe no del tarro per un cavillo bocciata la proposta di promozione del questore per un dettaglio sull'arma di un rapinatore Matera l'avere affrontato il bandito a mani nude non è bastato ha fatto solo il suo dovere e poi ancora Vietri Centro Gian Maria i vandali distruggono gli espositori lettera del responsabile inqualificabile questo appunto il quotidiano del sud sulla gazzetta di Basilicata stessa apertura anticorpi monoclonali la Basilicata c'è siamo tra le prime regioni a sperimentare la terapia anti-covid una paziente Lucana a rischio è stata sottoposta alla cura serve la collaborazione della medicina del territorio e delle USCA pronto il piano per gli autobus extraurbani l'abbiamo anticipato leggendo il quotidiano del sud e poi a centropagina una notizia dedicata al petrolio royalty del greggio il 5% andrà ai paesi vicini ai pozzi oggi in consiglio il via alla proposta che è stata presentata dalla Lega in fondo alla pagina vediamo c'è Maratea e il Rio de Janeiro il Cristo unisce due mondi le curiosità le rispettive statue diventano dei simboli significativi e poi la notizia ancora che era riportata in fondo alla pagina del quotidiano la nuova il quotidiano scusate del sud riuscì a sventare una rapina in banca ma ora gli negano la ricompensa ladro armato di taglierino non era pericoloso però il poliziotto ero elogiato ma resta a mani vuote ci spostiamo sui quotidiani nazionali cominciamo con il Corriere della Sera naturalmente in tutte le aperture si parla della campagna vaccinale dell'emergenza epidemiologica e dei provvedimenti che oggi approderanno nel consiglio dei ministri i vaccini anche in farmacia questa è la proposta del ministro Speranza e sospeso dal lavoro chi non si immunizza scudo penale per chi innietta le dosi Draghi e regioni discutono su limiti e misure boom di voli per l'estero a Londra un giorno senza morti questo dunque quanto riguarda il Corriere della Sera andiamo avanti andiamo a leggere la Repubblica in evidenza nella falsa apertura c'è la manifestazione antirazzista che si è tenuta negli Stati Uniti 8 minuti in ginocchio così l'America processa il razzismo e ancora a centro pagina la fronda dei governatori l'aveva anticipato il Corriere della Sera ci sta questa trattativa tra i presidenti delle regioni e il governo nazionale virus le regioni del centro-destra chiedono a Palazzo Chigi riaperture immediate il no di Draghi e Speranza le gela anche dopo Pasqua zone rosse e arancioni il Premier riscoprire il gusto del futuro via libera ai vaccini in farmacia Biden guai a mollare ora Londra primo giorno senza morti ma c'è la polemica proprio relativa al DL che approderà nella riunione nella seduta del Consiglio dei Ministri di oggi che nonostante preveda la zona rossa in tutta Italia durante le festività di Pasqua permette i viaggi all'estero andiamo a leggere il fatto quotidiano si occupa proprio di questo DL sostegni meno soldi dei DL ristori sorpresa di Pasqua di Pasqua quanto arriva a bar ristoranti e compagni andiamo a vedere nel dettaglio penalizzati i piccoli addirittura però aumentati i fondi alle grandi imprese e a quelle minori i rimborsi sono tagliati della metà o un terzo questo dunque questa dunque questa dunque l'analisi critica relativa al DL sostegni del Ministro Draghi sulla stampa Draghi a luglio immunità di greggio vaccini subito 3 milioni di fiale stop all'acquisto delle regioni dopo Pasqua superiore in presenza in zona arancione qui si parla anche di scuola il Premier resiste al pressing sull'apertura dei negozi sia a viaggio all'estero in arrivo le monodosi Johnson e Johnson e ancora vediamo libero come titola qualcosa è cambiato in peggio Draghi promette il governo non fa immunizzazioni lampo ristoria pioggia rientro a scuola e chiarezza sulle chiusure i piani del Premier per il Paese sono rimasti solo sulla carta e Vittorio Feltri ci parla di toghe e vaccini magistrati che non lavorano non fanno guai poi ancora sull'avvenire pronti allo scatto questa l'apertura relativa naturalmente alla campagna vaccinale in Italia vaccini Johnson & Johnson dal 16 aprile le inizioni anche in farmacia a luglio immunità le regioni chiedono segnali sulle aperture preoccupano le terapie intensive allentamento possibile dal 20 aprile polemica però sui viaggi all'estero a Londra nessuna vittima nella giornata di ieri e questo fa ben sperare a centropagina Cristiani ancora sotto attacco in Indonesia torna 20 feriti tra i fedeli e qui abbiamo dei problemi per quanto attiene la lettura che è poco nitida su questo quotidiano andiamo a leggere il sole 24 ore ancora in primo piano c'è la campagna vaccinale ma in questo caso ci dà delle indicazioni interessanti per quanto attiene la produzione dei vaccini in Italia e vediamo vaccini prove tecniche di filiera italiana 10 aziende in poll per la produzione bene questa è una notizia piuttosto interessante e con il sole 24 ore che vedete alle mie spalle si chiude qui prima notizia questo primo appuntamento mattutino con l'informazione sulla nuova tv non andate via perché subito dopo ci sarà il TG Flash alle 10 alle 10 e 30 l'approfondimento di prima notizia con Celesino Benedetto in studio e tutti i suoi ospiti a seguire il TG Flash delle 12 e poi quello in studio delle 13 e 50 e tutti gli altri programmi legati all'informazione e poi ci saranno le nostre consuete trasmissioni dunque rimanete sintonizzati sulla nuova tv da parte mia e tutto a tutti voi un augurio l'augurio di un buon proseguimento di giornata grazie a tutti